eccoci buongiorno allora abbiamo messo i codici quindi quindi abbiamo riscattato questo ipogrifo di d'ossidiana questa ricetta dovete distillare la formula colliquida che conferisce successo alcune imprese per una giornata in gioco la felicità si può provare a consumare e aver sbloccato il tavolo alchemico e la ruota degli strumenti della serie principale poi abbiamo riscattato anche questa missione missione esclusiva del negozio infestato che da accesso di un terrore sotterraneo il set cosmetico del bottegaio un negozio di osmin esclusivo la missione esclusiva per automaticamente osmin mentre avanti nella sera principale possibile cercare oggetti estetici nel menù equipaggiato usando l'opzione modifica aspetto ok partiamo qui c'era una missione se ben ricordate quindi boh andrei a farla garret hai un minuto mi stavi chiamando garret sì visto che mi hai aiutato con la piuma di fu per appozioni credo che tu sia la persona di cui ho bisogno ti spiego ho avuto un'idea per una bevanda ispirata alle api frizzole ma mi manca uno degli ingredienti principali tu e le tue misture non so proprio come ti vengano in mente certe cose è un dono davvero allora sospetto che l'ingrediente chiave delle api frizzole siano i pungiglioni di billi wigg essiccati ho saputo che ce ne sono un po' nella cantina di milandia lo andrei a prendere personalmente ma zia matilda mi tiene d'occhio vuole che mi concentri sulla lezione di pozioni non sui miei distillati seguiresti un passaggio segreto fino alla cantina di milandia per portarmi un po' di pungiglioni di billi wigg essiccati certo a fare fatto avere una rapida via di fuga dal castello potrebbe sembrare ecco sì perfetto grazie però sappi che non è esattamente rapido la cosa utile è che è segreto il passaggio è nascosto dietro la stava buon pomeriggio lavapiatti yeee siamo ancora qua ho appena riscattato la missione è una missione che c'era nella custodia di odio nella città eh no aspetta chiedere qualcuno di comprarti nella città là al villaggio poi vedremo anche quella prossimamente e poi ho riscattato il grifone delle pozioni nuove gialle non lo so cosa serve un felixia qualcosa e quindi devo già farlo l'altro giorno ma vabbè c'è tempo oggi sono inchiazzato perché volevo far partire un gioco e non me lo fa partire porca miseria vabbè ci proverò vedrò cosa posso fare garret va bene se ce la farai sarai la prima persona ad assaggiare il mio nuovo distillato forse posso convincere a mitt ad aiutarmi coi compiti di pozioni così mi azzia alletterà un po' la morsa ok quindi andiamo a fare questa missione qui trovo la statua della strega orba che deve essere quella statua no no tutto PS5 ha tantissimo spazio lo suo avrò 5 giochi ma è che no è che quando lo avvio cioè giorni fa quando lo avviavo mi faceva vedere il gioco è Disney Speedstorm è quello delle corsa delle macchine che è praticamente gratuito qua sulla play siccome che ho giocato per parecchio tempo ma poi nell'ultima settimana cioè settimana scorsa ha cominciato dovrebbe essere quella strega questa sembra la statua giusta qual era la parola d'ordine? non me la ricordo la parola d'ordine aspetta allora praticamente quando avvio il gioco il menu mi dice mi faceva entrare nel menu poi quando avviavo la missione della corsa mi si bloccava nel caricamento quindi mi faceva uscire e buttare fuori ho segnalato mille volte questa cosa quindi ho continuato a farlo ma andava sempre problemi oggi invece praticamente non mi fa proprio entrare nel gioco mi fa entrare dentro alla schermata del caricamento iniziale e poi mi butta fuori boh non lo so però tutti gli altri giochi funzionano e quindi c'è solo quello quindi lo disinstallerò e vaffanculo non è che non ci ho messo soldi va però mi piaceva come gioco perché erano dei pochi giochi delle macchine eh non lo so come mai non me l'accetta e poi boh ha sempre funzionato bene che posto incredibile chi l'avrebbe mai detto va bene tanto mi spiace che avevo fatto un sacco di personaggi un sacco di cose e quindi ho sbloccato un sacco di macchine già quello la fatica che ci ho fatto un sacco di personaggi eccetera dove siamo qui ok devo mettere il reparo immagino allora il reparo era questo no no ho fatto anche l'aggiornamento perché ieri praticamente c'era l'aggiornamento con la nuova patch del nuovo personaggio nuovo evento e quindi si è aggiornato in automatico poi l'ho anche disinstallato e l'ho reinstallato ma mi dà lo stesso problema a carichi prima di poterlo usare riparo e quindi fa un culo ma niente è che avevo già fatto tutto il pass precedente cioè mi sto sblocato di versare tra l'allà sembra che abbia funzionato ma boh invece c'è una cassa prima di andar giù cosa ci penserà quaggiù quindi boh mi spiace solo che c'era carino c'era diciamo un gioco che mi distraeva magari quando non c'era niente da fare vabbè adesso c'è questo però prima non avevo niente da fare lo utilizzavo nel mentre che insomma non è il gioco della vita però vabbè il destino ci salterà fuori qualcos'altro e c'è un altro scrigno che però si prende dall'altra parte questo castello non cesserà mai di sorprendermi no no che mi fa le curve troppo larghe ok vabbè vabbè soldi fanno sempre bene ho provato a mettere a posto ieri ho messo a posto un po' di social però non quello di discord anche quello di discord l'ho messo si boh non lo so dovrebbe funzionare credo spero una notte alle 4 l'ho fatto quindi dopo il sonno delle partite qua ok qui si prosegue qui penso dovrebbe funzionare ok qui ci stanno dei ragni ma io prima quando giocavo a dbd ai tempi tipo 5 6 anni fa per 4 anni facevo le nottate con i miei amici di giocare multiplayer facevamo le 5 le 6 del mattino anche le 7 però poi insomma è arrivata l'anzianità come faccio ad entrare qui ci sarà qualcosa da portare qui qualcosa da spingere qualcosa in alto qualcosa che non ho visto ma noi siamo arrivati da là quindi la strada giusta qual è forse di aspetta prima di andarti là vado prima di qua ma quante strade ci sono ma aspetta di là si sale forse mi conviene allora andare di qua forse lì è per tornare all'inizio devo riuscire a passare oltre però qua sotto c'è qualcosa anche lì no vabbè noi andiamo a recuperare queste cose io avevo visto una cassa infatti che orari no di solito i miei orari sono più notturni che i pomeridiani diciamo lì poche erano più notturni adesso che mi sono un po' calmato insomma si può dire calmato però qua non so se si può buttarsi giù girare di lì magari c'è un buco sotto vabbè proseguiamo se non torniamo indietro confritto lì va di là ok aspetta però perché qui c'è questa discesa però mi perdo quelle casse ancora un ultimo sforzo aspetta allora se io mi butto giù aspetta faccio un tentativo buttati intanto giusto per vedere se c'è una una caverna di qua infatti c'era la caverna no quello noti forest ok ora per salire devo risalire dalla strada di là boh non lo so come funziona la playstation 5 ultimamente che mi dà problemi questi vabbè è la prima volta che mi dà un problema in realtà su un gioco è sempre andata bene ok lì però c'è un uno di quelli quindi c'è qualcosa che intralcia quella piattaforma c'è qualcosa che intralcia ok bene però per saltare di da qui ok vadi vadi allora qui mi sembra che non ho perso nient'altro devo curiosare perché non si sa mai qua tutto nascosto allora è l'uscita però qui c'è una cassa ok qui non c'è nient'altro è chiuso andiamo dall'altro lato qui si può salire aspetto allora per aprire qui ok devo mandare il fuoco ok di qua però non c'è niente inutile che vado fino lì sopra non c'è niente ok quindi andiamo di fuoco qui eccomi qui cosa c'è melandia non c'è niente no grazie per il follower bianco vuoto che non è sempre più originali allora noi siamo dentro c'è un negozio milandia milandia sento il profumo di cioccolata dove saranno quei pungiglioni di billy wig allora se vado di qui non è un negozio di caramelle della città questo milandia allora qui non c'è niente tipo il retro una stipione di casse hai ciao benvenuto ok abbiamo il pungiglione devo tornare da gareth chissà come sarà questa sua nuova ricetta ho messo salve qui non c'è nient'altro giusto lì dietro ci sarà una porta ad aprire ok questi non ho ancora i chiavistelli abbiamo già guardato quando siamo passati prima ok dobbiamo andare di là salve ma questo non vende niente no va bene mi vado eh io faccio questo diciamo lavoro lavoro passione lavoro passione da 30 anni quest'anno che insomma non sono di primo pelo anche tu quindi questa sarà quella missione allora aspetta qua ho visto che abbiamo preso delle robe 152 allora molto meglio questo prendiamo qua 138 146 allora meglio questo la necromanzia io seguo la salomonica e un po' la wicca anche se sono più per le arti oscure appunto siamo al fattore necromanzia ci sta sono più per comunque la magia un po' più oscura ma perché ce l'ho di famiglia e quindi la radice non te la togli diciamo e quindi hai l'intasamento da quella parte però faccio anche ovviamente anche il lato bianco però ovviamente come sai immagino se sei più pendente da una parte è più limite dall'altra anche se ovviamente qualcosa fai ovviamente determinate cose magari no perché sei più pendente dall'altra parte però tutto quello che si può fare si va vabbè poi faccio la rossa faccio anche quella del caos ne faccio tante perché in trent'anni ho fatto un po' di tante cose poi non faccio solo le carte faccio le rune i ching vabbè i tarocchi le sibil in tanti anni si fanno vabbè faccio la chiromanzia spiritismo diventi se mi capita anche mi ingaggiano che vabbè il nostro diciamo lavoro è un po' più di nicchia quindi è più difficile che ci ingaggiano come se fossimo un cantante no ne ho 43 sono dell'80 stiamo mi accendo una sigaretta ok allora possiamo andare la però aspetta qua vendiamo un po' di roba va abbiamo queste cose inutili nell'inventario ce ne liberiamo se cerchi qualcosa in particolare fammelo sapere ma tu lo fai anche tu come professione o come hobby allora vendi vendi infatti per quello che ho scelto questo gioco perché c'era la magia però col cavolo potrei comprarmi il vaso gigante no cavolo non ho abbastanza soldi però non so se spenderli adesso prendo questo da mille perché non ho tantissimi soldi però giusto per portarmi avanti vai prendo questo da mille è bello trovare proprio quello che si stava cercando fammi sapere se posso fare altro per aiutarti poi compraremo tutto un giorno ormai non ci accumuliamo io vengo pagato e viaggiavo ma sono decisamente più giovane ma vabbè quando anch'io quando ero più giovane facevo molte più cose perché comunque si fanno di più fanno di 20 un po' più anziano c'è talmente tanta gente in questo campo non so se sei su facebook vedi che ci sono una maria di gruppi con tantissimi vabbè a parte i i falsoni i fake ed estuttivamente i nigeriani ma qui c'era una missione secondaria segui le farfalle vabbè andremo a farlo tanto prima o poi qua ci andiamo andiamo da qui ok ah mi sei perso allora io faccio qua perché adesso c'è tutta sta gente ma non c'era allora io a parte le carte quindi insomma tarocchi sibille classici diciamo la manutenzione classica faccio anche altre cose quindi faccio faccio anche lo spiritismo quindi le pulizie delle case oppure vado a fare pulizie come faccio anche la parte ritualistica insomma penso che magari la fai anche tu o fai solo le carte non lo so che molti non fanno quella parte lì però l'ho sempre fatta perché ce l'ho di mio quindi faccio la parte ritualistica la parte più spiritica poi faccio le letture anche delle aure la parte energetica quindi un po' di prano per terapia queste cose qua no quindi ai meditazioni infatti sono molto calmo diciamo di mio vabbè calmo no però allora la c'era una missione secondaria delle farfalle non so se mi conviene prenderla adesso se mi servirà prendere con le farfalle o ci andiamo dopo e andiamo avanti con la missione regolare della prova però sono tentato di vedere cosa sono quelle farfalle dai facciamo le farfalle mi frega tanto una in più non guasta allora è qui magari mi si apre una porta qualcosa poi vabbè faccio la chiromanzia quindi la lettura della mano faccio la lettura dei nei quindi la mappa del corpo un po' di fisionomia perché comunque è una cosa che non è tanto richiesta diciamo che è una parte un po' meno richiesta la parte diciamo fisionomica però la utilizzo per quando comunque hai dei clienti diciamo dal vivo no e quindi vedi come si siedono le posture tutte queste cose allora aspetta dove è che stava qua me la segno se no poi mi perdo segui poi i cingh le rune perché ha avuto il periodo diciamo un po' più celtico un po' più ciaia anche vabbè nel periodo manga insomma qua dentro ah che è la tipa della locanda mi scusi ma stava dicendo qualcosa ma perché ho sui stocchiali sono scena in milanze piacere mio pensavo alle belle farfalle che vedo sempre sul limitare della foresta no anche io faccio adesso per esempio io devo fare un ritorno dove la purificazione facile è molto easy però anche io faccio quelle cose poi vabbè mi diletto un po' anche sulla demonologia perché comunque ho avuto esperienze luciferiane ne abbiamo passate un po' funziona discora adesso vedo che mi è arrivato un messaggio ok cosa hanno detto della foresta quali storie orribili le hanno raccontato sulla foresta proibita guardati tutto questa ragazzina sai chi mi assumì non so se avete visto il telefilm di shameless la bambina di shameless c'è la stessa faccia adesso non mi ricordo debbie si chiamava costa miglia un sacco disinfestazione ritualistica no pure io faccio ritualistica specifica faccio anche cerimoniale diciamo di gruppo dipende dipende come ti coinvolge anche la gente poi vabbè faccio le cose anche per me ovviamente però diciamo che con le persone alla fine va molto di più magari la la cosa singola più che magari la cerimoniale è più specifica magari a gruppi o persone già abiette allora pare che funziona quindi poi vabbè io non sono molto tecnologico sono più più un ambito artistico diciamo più vanesio dice artistico mi ha detruppato ah meno male bene allora si vede che perché ieri ho messo il ho guardato ho visto che si poteva mettere il link del per sempre diciamo io invece ho messo quello dell'invito casuale dell'invito a scadenza forse per quello avevo su quello quindi ahia no non mi interessate voi adesso devo andare là io schifo tutto eh devo fare in fretta perché ho visto che c'è un sacco di roba come funzionano queste farfalle si no anch'io ho 30 anni ho un giro di clienti oppure io diciamo che mi piacerebbe ma cosa che devo fare qui seguire la farfalla ma ci vuole il la bacchetta quella luminosa ok vanno di qua al giro dell'oca mi fanno fare facciamo che entrare qui con reparo non è proprio l'ideale dove vanno ok bene bene guarda cosa abbiamo qui ah tutta qui la missione finito finita ah easy allora aspetta ritorniamo dalla tipa ma poi a me piace molto sperimentare faccio anche collaborazioni con artisti quindi proprio gli eventi diciamo quindi mi piace comunque fare mi piace morire lì perché poi comunque bisogna sempre rinnovarsi un po' in tutto c'è stato comunque ultimamente anche il periodo wicca diciamo il periodo wicca quindi che mi sono messo nel periodo wicca ma già la conoscevo prima però prima non c'era questa moda quindi poi sono entrata nella moda con scott kangham vabbè dalle mie parti non c'è molta magia diciamo nella mia città quindi ho la fortuna che comunque sto mettendoci la faccia facendo gli eventi eccetera ho la fortuna comunque la gente mi conosce mi vede in giro ci sono solo io che ci mette la faccia attualmente allora io la wicca la uso vabbè per la parte bianca ovviamente vabbè non dispiace perché comunque è un po' strega mi sento anche se ovviamente preferisco più il fattore demonologia diciamo il fattore salomonico è il mio masso insomma quindi quando mi chiedono di fare dei rituali magari per divinità o demoni o generali che vuoi mi sento a mio agio allora quindi adesso possiamo andare a fare con la missione missioni qua individua sulla mappa ah ok dobbiamo arrivare lì c'è un punto dove possiamo arrivare prima lì qua qui devo sbloccare tutto devo farmi i giri però se io scendo qui c'è anche altre due missioni da fare qua prima di arrivare lì mi conviene che le faccio ma a me la wicca mi piace perché poi la fattore strega si beh è molto semplificata la trovo molto semplificata come ritualistica non lo so molto easy molto basica perché ti fai il rituale come vuoi tu te lo gestisci come vuoi quindi non hai diciamo una regola prefissata cioè ci sono delle regole però alla fine è un po' come il telefilm delle streghe che ti fai il tuo fogliettino ti fai quello che vuoi di base perché non ci sono rituali ci sono rituali ma sono comunque personalizzati è un piacere è perché siamo tutti attratti ci chiamiamo anch'io mi è capitato mi è capitato di vedere tipo una ragazza qua su twitch così a caso poi ho scoperto che faceva queste cose cioè vabbè io ce l'ho palese perché prima non mi chiamavo con questo nome o un altro nome quindi l'ho cambiato tipo un anno o due anni fa un anno o due anni fa un anno e mezzo fa perché ho detto ma magari su twitch non è come cioè ci sono più ragazzini è più è un po' diverso diciamo rispetto magari un social come penso che può essere anche un po' più adulto o instagram quello che vuoi e è comunque anche più facile trovare una clientela di là perché qua è proprio più complicato alla fine se non fai dirle o magari non fai magari dirette di cartomanzia che non so se le fanno qua se non so se tu le fai io non le faccio perché qua c'è comunque il fattore minorenne e quindi non lo so sarebbe un po' così c'è un conto se magari vengono nel mio canale e me lo gestisco ma se vado nei canali degli altri non lo so non uso più per giocare per passare il tempo non sono uno che piace regalare la magia troppo perché la magia è pericolosa e quindi non sai neanche l'approccio che hanno poi le persone e non mi piace trasformarla in un gioco lascia una mancia 10 boh lascia penso che non c'ho soldi c'è un tentativo allora qui però ci sono un sacco di casse ma questa poi alla fine cosa vende ma perché non ho guardato purtroppo no temo che mio fratello sarà solo uno dei tanti ad aver sofferto per mano loro quando se ne andranno se se ne andranno si tranquillo di nulla figurati ok allora questo negozio si sbloccherà sembra che la situazione stia peggiorando devo stare in guardia non posso entrare tu non puoi entrare qui c'è uno scrigno prima mi faccio la spesa raga poi dopo vado a fare tutti i giri del caso qui c'è un'altra porta con un ecco sono esploso non ho calcolato che c'erano anche le bombe chi lo sapeva poi qua sto facendo degli scrigni qui devo cercare anche la mappa adesso di qua oh un socio ciao socio ti guardi astronomo ok qui non si può entrare però qui non puoi entrare e niente forse c'è una scala da sotto una finestra qualcosa ci deve essere per salire lì qui c'è un buco come ci salgo ah c'è la scala porca miseria confritto ok adesso mi riempio di robaccia così almeno devo ritorno queste sono le farfalle queste qua oh non so le farfalle sono fiamme sono tutte uguali queste cose fanno in confusione ah ok anche instagram è perché io ho avuto problemi perché so mai un po' che non li aggiornavo ho rimesso tutti i link l'ho rifatto forse non ho messo quello di telegram però vabbè sempre di il nome è sempre quello la telegram non lo uso mai è là sotto vorrei capire come arrivare però c'è una porta chiusa allora qui c'è comunque un una lettera quindi in teoria forse è qua che io non la vedo aspetta forse è sotto forse è qui dovrebbe essere qua forse è dentro arca miseria forse va dentro qui botti eccola lì la zucca fizza è una popolarissima bevanda grazie al gusto di zucca non raggiungere certo la fama della burro birra ma staremo a vedere ok trovate tutte qua bene allora vediamo se possiamo recuperare questi altri scrini perché insomma abbiamo bisogno di soldi perché ho visto che comunque sia la c'è da comprare un botto di roba allora qui aperte questi qua sono chiusi dentro casa una missione alla volta perché insomma quando torniamo da questa prendiamo l'altra e non voglio fare confusione voglio fare tranquillamente una missione alla volta tanto non cambia niente ok abbiamo una bacchetta allora non c'è più niente a parte le zone chiuse lì c'è uno scrigno ma è sempre dentro casa mi sa che è chiuso si dopo dopo andiamo a fare il bardo bardo ah qua si può entrare ok è tempo che non ricevo le tue notizie come vanno le cose del ministero non ti pensavo spesso speriamo che tu sia bene sarà letto di sapere che abbiamo ornato tutto la tua decisione di diventare un auror per quanto questo è pericoloso devi vivere la tua vita assicurare la tua strada se rendendo un grande servizio al mondo magico questo non fio di essere tu fratello devi rinformarti di un fatto curioso sembra che un trossi sia insediato nella galleria ferroviaria vicino al villaggio quel poveraggio opererà presto una terza lezioni sulla velocità delle locomotive attendo la tua notizia di T.C.Wood ok quindi in teoria abbiamo a che fare con un avremo a che fare con un quanta roba da leggere il cardo distintivo riflessione di Helen T.C.Wood fu a molto tempo a disposizione io non ho molto di questi tempi per riflettere sulla mia carriera mi chiedo se il bene che abbiamo fatto durante le ore che abbiamo commesso lungo il percorso abbiamo sempre catturato i nostri criminali no a volte abbiamo rinchiuso la persona sbagliata è possibile un rischio accettabile se tratta di preservare il benessere l'intero mondo magico mi piace pensare che se è così ma è facile dirlo per me non sono una strega non ci ho entri messo a marcire ad Azkaban se lo fossi forse lo penserei diversamente è un dilemma senza soluzione almeno un dubbio da cui probabilmente non darò risposta con il problema dell'appensionamento vabbè bla 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 le mie campanule sono morte ancora devo leggere tutto il cardo riflessioni sempre di lui mi arrovella ancora sui miei grandi dubbi ipotetici dell'altro giorno mi sono sempre assicurato di poter difendere le mie decisioni dinanzi a Biesemann nel caso me ne fosse stato bisogno mi è stato rinchiesto di fare le rare occasioni non è mai stata un'esperienza piacevole ma quando mi sentissi sicuro vabbè faccio veloce vediamo cosa dice ma è un bla 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 ho chiuso con il giornino bisogno di forza tempo ma non è niente di così rilevante questa informazione ah ma c'è il nano qui il folletto non mi sembra così rilevante la pensione non è per nulla mi aspettavo ha preso il tempo lì naturalmente ma c'è la mancanza di brivido che c'era di fuggiaschi come spagnarali fuori a dare la caccia a un forte ventre ucraino ucraino attraverso la città babbana per poi abbiatevi babbani che ti ha visto un mago scuro un mago scuro cavolino allora i miei vicini non potranno più guardarmi con gli stessi occhi la vecchia madama in fondo alla strada quella che mi chiusa è brutta ok dobbiamo incontrare il giardino le campagne tardano a fiorire ok vabbè sono indizi di qualcosa che poi andremo a vedere tipo questa madame che non l'abbiamo ancora incontrata ma potrebbe essere quella missione là non c'è troppo da leggere mi disgusto ah lì c'è una una cassa per botta di culo l'ho vista adesso sono piena di roba deve essere stato davvero imponente ai suoi tempi eh che cavolo però adesso se andiamo a fare la missione c'è un sacco di roba c'è un sacco c'è un sacco di roba qui porca miseria qua alla fine del craft e basta sono già perso dove andarti qua allora dobbiamo andare allora aspetta troppo rava mi metto in confusione qui allora questo no dobbiamo sbloccarlo questo no troppa rava poi questo dobbiamo sbloccarlo questo completo ha il pezzo sotto però non ci serve lo giusto per vedere come sono ma tanto poi è roba che si vende questo è troppo basso e verde è anche più carino del mio però il mio era un po' più forte questa sciarpa verde ma era carina però andiamo su 169 già mettiamo questa nuova bacchetta qua ok a posto possiamo proseguire quindi nell'inventario troviamo tutte queste lettere che in teoria abbiamo letto fingiamo di aver letto nelle collezioni no tanto poi ce le dimentichiamo queste cose questo ok bacchetta e qui abbiamo questo qua che poi dobbiamo andare a inserirlo nella nostra stanza e qua come sfide possiamo riscattare il cappello verde questo non ancora ok e qui riscattiamo il vestitino e ok vai ci siamo siamo pronti dobbiamo andare di là quindi svuoto gli accampamenti dei goblin allora non mi conviene tenere quello ma mettiamo ghiaccio questa cosa di svuotare l'accampamento non è che mi alletti molto perché poi mi riempio di robe e devo tornare l'avanti indietro ecco mi ok confritto con schiena chi cazzo l'ho visto porca miseria una alla volta ragazzi ho messo il puto La colpa è soltanto di Rarok Ce ne dovrebbe essere più Un accampamento è andato Ne manca un altro Ma tra l'altro qui ci eravamo già stati Facendo il nostro giro a cavolo Ah lì c'è qualcosa da prendere Dovrò fare qualcosa qui Non credo Forse tipo riparo Suota l'accampamento No Ho preso tutto Si C'è una capra che mi piaceva il bodyblock Allora Un umano in meno di cui preoccuparsi Lì c'è un castello Ma perché non l'ha preso? Eh non li vedo mai quando stanno dietro Che sono in una posizione di merda qui Confringo L'eviota Oh L'eviota L'eviota Parca miseria C'è qualcuno che mi si sparà da dietro E lui io non vedo un cazzo C'è qualcuno che mi si spiega Ok Finiti Ma qui c'è qualcosa Cazzo Cosa ha questo? Vai buttati E che cazzo Reveglio Ma cos'è sta roba che ho preso? Reveglio Ah lassù Non l'avevo visto quello Arrivo da qui Peccato che non ci fosse nessuno a vedermi Non so cosa possa servire Ma va bene Ah no di qua Perché non posso? Ok Torniamo da madame E poi prendiamo l'altra missione Ma io ho il grifone anche Ah non lo posso ancora Fare Ok Che gioco ragazzi Troppo figo Anche se io sono imbranato di mio Su sto gioco Però Beh in altri giochi no Ma qui si Non lo so perché mi prende così Però boh Lo sto giocando tranquillamente Io mi diverto lo stesso L'importante è divertirsi Quando si fanno i giochi Sono troppo distratto Poi da tutte queste cose Che vedo Lì c'è qualcosa Interessante quindi Spero che quella Lì mi sblocchi Tipo Negozio perché Aspetta Tutta sta roba Questa 162 Andiamo su 169 E basta Quanto mi manca Buongiorno Buone notizie Ho sgomberato L'accampamento di Rano Davvero? Ma come hai fatto? L'ho preso di sorpresa Insomma Non è di sorpresa Vabbè Posso vedere la sua mercanzia? Che detto così pare brutto Che cosa stai cercando esattamente? Ti ringrazio Allora Prima di tutto ti vendo tutta questa roba No Magari tutta no Questa Qui Pelo di lupardo Questi qua Lo prenderai Perché non ne ho Però perché Mi frega Io prendo tutto Così evito di costruire Di fare E non ho Un culo Ok Grazie mille Della visita Sei tu Che hai sgomberato Quell'accampamento Goblin Vicino a Lower OXFILLE Vero? Con chi stai parlando? Ah Ok In teoria Non ho ancora però Le serrature Che non ho ancora capito Come si fanno E facciamo quest'altro evento Cioè evento Porto di storia Sì Ma non credo di conoscerti Io sono Dorothy Sprotto Stavo parlando del fratello di Claire Beaumont Bardolf Pare essere scomparso Si dice fosse nella foresta A praticare la magia oscura Io stessa l'ho visto vicino a delle rovine Con gli uomini di Ruckwood Temo si sia messo nei guai Con gli Ashwinder Soprattutto se ha fatto loro Una promessa Che non può mantenere Che disgrazia Con gli accampamenti di Ruck Distrutti Credevo che avrebbe rinunciato Del tutto Alla magia oscura Perché Bardolf Frequenta la banda di Ruckwood? Cosa ha spinto Bardolf Ad aggregarsi agli Ashwinder? Oh Ha avuto un terribile scontro Con i seguaci di Ruckwood Ne è uscito cambiato Non voleva più Sentirsi inerme Credo fosse alla ricerca Degli Ashwinder Per apprenderne i segreti Victor Ruckwood Sembra non temere Gli incontri con i seguaci Di Rarrock E se Bardolf Non volesse Farsi trovare Andiamo a rompere i coglioni Praticamente Sicura Non si allontanerebbe Non si allontanerebbe mai Ha detto che sarebbe tornato Nel giro di due settimane Il mio estinto Mi dice che è stato catturato O peggio Potrei cercarlo io Ogni aiuto è ben accetto Non esiste la polizia In questa città Andiamo a parlare con Claire Andiamo a parlare con Claire Ok Andiamo a Claire Un modo per non suicidarsi E scendere In culandia però Se mi butto giù Per l'acqua Oh Splash I pesi si possono prendere C'è la cosa Della pesca No Mi sa che Sali però Magica Doremi Ok Quello si colpisce Io però mi suicido Qua sotto Però là c'è Vabbè Sono morto No È normale che non perdo Pochissima vita Tutto per fare la via più corta Sono degli accampamenti Sono degli accampamenti Vediamo se c'è qualcosa qui Si può tirare Si 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 Con l'Eviosa Con l'Eviosa Quanto quella fa il negozio Ha detto Quindi Poi Dopo il fiume Vicino alla foresta Sono sulla strada giusta Ok 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 però Mi c'è uno sputa Qualcosa Questo Aspetta Ti vendo due cose Allora Apriamo le controllo Perché Allora Non si sa mai 138 152 Niente Vediamo se c'è qualcosa Che ti serve Oddio una scopa 5000 Ma siamo pazzi No vabbè Non mi serve niente Per adesso È stato un piacere Però so che lei Vende un sacco di cose Ma queste cose Poi sono altre cose Che farm Allora Qui c'era una prova Di Di Merlino Però lì ci sono Dei cattivoni Ma mi ero spostato Non avrò spazio Non avrò spazio Le viola Rebellio Ok Là c'è la sfera La devo portare lì Una prova di Merlino Ma la proviamo Non avrò spazio Le viola Partiamo Ok Adesso come lo tolgo Però Come la elimino Sta leviosa Si toglie da sola? Forse Forse non va qui C'è qualcosa Qualche altra parte? Ok Non vedo E' quello? Questi? No Non è qui Dove cavolo Devo portarla Quella Forse è qui Ah ecco Com'era No Devo fare Leviosa Perché non va Vabbè Non la posso spingere Io Amanu Amanu Ah no È vero Devo mettere L'altro potere Perché qua Mi ha cambiato Il set L'altro potere Questo 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 No No So cos'era Non mi ricordo Energico Non c'è oggetti Nemici Verso l'altra Indietro Grazie a un tempo Recupero Non è Spingere Forza C'era un altro potere Per spostare Questo No No Ok Ok Perché non va Perché non va E dai Basta un secondino Che ti sposti Quattia miseria D'ingatti Un Leviosa Expediatus Leviosa Perché non va Perché non va Per spostare Ah porca miseria Dove sta Il problema Il problema Ma per che Ma per che Revelli Expediatus Faccio Perché non va Devo andare In città Per spostarlo No No Per spostare Per spostare Porca miseria Aspetta però qui Possiamo mettere questo Questa è qualcosa Questa è qualcosa non è sempre tutto bene o tutto male ragionare così indica mancanza di immaginazione chiunque mi attacchi si ritroverà sepulto indecito è proprio che ci sia un intruso tra noi sei il piccolo bastardo che ha... se mi faccio anche solo un grappio te ne penso? Devo scaricare... Devo spettare questo stazzo! Reveglio! Ok questa è notata prova di Merlin Che cosa devo fare qua? Che cosa vuol Pirli? Reveglio! Che cosa vuol Pirli? Che cosa vuol Pirli? Che dobbiamo fare qui? Devo saltarci sopra? Quella miseria no! Ah mica è facile Perché non sto fermo Ok Come è? Come si uccidono questi? Come si uccidono? 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 Ma non so come ucciderli Eeeh troppi Come si uccidono? 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 Sì, è finito! Faccio! Slug! Leviota! Faccio! Sì, è finito! Slug! Faccio! Ma come si... Sì, no! No! Leviota! Glacchus! Quello inverio si indossa un maglione di là! Quello in serbato! Faccio! Leviota! Buia! Reveglio! Ancora! Difindo! Clutch! Leviota! Reveglio! Confringo! Ah... Leviota! Asso! Confringo! Niente dovevo prendere Non so se la signora Beaumont vorrà sapere cosa gli è successo veramente Rivenio! Odio però per ora non posso più tornare indietro Finora sono riuscito a proteggere due delle maledizioni Ma devo sostanzializzare l'ordine e se voglio imparare altri Non devo vedere che sono spaventato Li sento già sbigliare nelle mie spalle Mi hanno sempre detto che non c'è da fidarsi dei maghi oscuri Non posso fermarmi almeno finché Non ho abbastanza maggiore per proteggere Ma è chiaro e tutta per avvenire Uno scritto dal diario di Bardolph Aveva sentito parlare di un piano che lo riguardava Rivenio! Ok ci sono altre cose Da dietro Quello che ho appena assistito mi ripugna C'ho creato un inferiust Hanno riporto in vita un cadavere mutilato Ho cercato di nascondere il mio errore La tale vista Ma penso che l'abbiano notato Devo convincere di non essere una sfia Che non sono qui per ostacolare Altrimenti potrei essere la prossima vittima Parla degli inferi E poi si dice qualcosa sul fatto che Bardolph Sarà il prossimo Rivenio! Rivenio! Ok non sono tutti altri libri Qui c'è un animale ma Non so come colpirlo Alla sopra ho visto delle cose Vabbè Quindi Claire dove stava? Mi sono già perso Ok andiamo in città Tra l'altro qui Aspetta andiamo lì Rebellio! Rebellio! Per caso è nei pasticci? Sono stata quasi attaccata dai lupi Sono fuggita per miracolo La prossima volta devo essere più preparata Della pozione del tuo non mi farebbe comodo Ma dimmi Non è che per caso mi hai un po' con te? Credo che lei sappia badare a se stessa Non intendo darle un bel niente Sei crudele a darmi della bugiarda Non ho bisogno dell'aiuto di una persona così scortese Cerca ancora la pozione del tuono? No io Aspetta ne hai trovata un po' Temo proprio di non poterla aiutare Lo farei volentieri ma purtroppo non ne ho Che grande disdetta Speravo fossi equipaggiato un po' meglio Eh non ce l'ho Devo farla Rebellio! Sono di generosità anche Speravo fossi equipaggiato un po' meglio Rebellio! Vedi se c'è qualcosa che ti serve È stato un piacere Ok Allora Eh non ce l'ha la pozione del tuono Dobbiamo farla Hai la mia più sincera gratitudine Anima coraggiosa Signora Beaumont Credo di avere notizie di suo fratello Bardolph Dimmi che cosa sai su mio fratello? Mi duele dirglielo Ma Bardolph era stato trasformato in un inferno Sì Ho dovuto ucciderlo Cosa? Come puoi anche solo pensare che quell'inferius fosse mio fratello Bardolph? È assurdo! Indossava un maglione di lana lavorato ai ferri No 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 Non può essere vera Mi dispiace molto Avrei voluto portare le notizie migliori Le auguro ogni bene Cos'altro avrei potuto fare? Oh Bardolph Adesso è incazzata con me Ah no Bardo Mio amato fratello Eh T'attacchi Così è successo quello Allora Succede nella vita Figurati Allora io andrei a liberare un attimo E poi torniamo qua Dovevo sboccare anche questo Tanto stiamo quasi vicini Poi scendiamo qua Così faccio la pozione del tuono nella porta Se si può E poi andiamo avanti Dobbiamo arrivare qui Questo non l'ho sbloccato Quindi lo sbloccheremo Tic pensa che dovresti andare fiero Delle pozioni che hai Quasi Mi facciamo altre perché non ne ho Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Allora avevo un altro oggetto da mettere qui Quindi potrei togliere questo e metterlo di qua Allora avevo un altro oggetto da mettere qui 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 Quanti stai non ho capito a che serve? Fare questo, ma va bene, prendiamo le pozioni del tuono Ok, allora adesso possiamo tornare là Però io vorrei sbloccare questo portale qua C'è anche questo da fare Vorrei fare questo Adesso andrei qua Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare Prima che inventassi la polvere volante C'è qualcosa che non va Bella domanda Sono certa di aver visto un grammo È un presagio di morte Sono in pericolo Ma pensavo se non può vedermi allora sarò al sicuro, no? Ho solo bisogno di una pozione dell'invisibilità Tutto qui Si dà il caso che io abbia quello che cerca Ecco qua Tuttavia non so se le sarà d'aiuto Faccia attenzione, va bene? Oh, sei uno zuccherino Mi assicurerò di non correre rischi Lo stesso vale per te Non devo più temere il grammo Ed è grazie a te, giovane Accetta questo dono come ringraziamento per la tua gentilezza Ti prego, insisto Reveglio Ok Dobbiamo andare di qua Porca miseria Non ho cambiato i poteri Aspetto Non ho cambiato i poteri Torno dopo Torno adesso Reveglio Ah, l'agnellino è tornato nella tana del lungo Expendiamo Ah, ehi, quella è mia No Gli animali corrono meno rischi adesso Reveglio Riveglio Non la che valga la pena imparare dalla cosiddetta Oh no Non ne spediamo Qualcuno la gioca Qualcosa che non va qui Forse dovresti ridurre Disarmante Disarmante Aspettato che lo colpisse il cavolo No Reveglio Dai niente Quello rimarrà lì per sempre Invece no Reveglio Ah, ok Qua c'è una stiratura E questo? Expendiamo Ingegno Reveglio Reveglio Qua c'è una stiratura Qua c'è una stiratura Reveglio 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 Non c'è una stiratura Quindi forse qua bisogna tornare dopo Reveglio Reveglio Posso entrare qua Allora Dobbiamo andare qui So cosa significa Una prova di Merlino Reveglio In teoria Dovrei portarlo lì, no? Ah, ci sono altre cose Non ho visto dov'è Il cazzo di cosa Reveglio Il cazzo Succo Duppe 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 Uncela 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 di qua non passa è finito no è tornato su forse lo butto giù da qui ah da qui ok niente ci dovrebbe qualcosa che lo spinge è finito Sì, 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 sì. Ma portami serio. Ma... no! Ma... Ma... Non ci viene... Transeria... Quasi lo spingo. No, ma porca miseria, appena tocco lì, cade. No, non riesco a farlo, eh, si è impedito. Andiamo qua. Non si sposta da qui. No, non riesco a farlo. Non riesco a spostarlo, porca miseria. Spingere un sasso, cioè, veramente. No, non riesco a farlo. No, non riesco a farlo. Se lo butto giù da qui... No, non riesco a farlo. 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 Non riesco a farlo. Non riesco a farlo. Non riesco a farlo. Ok, però il suo potere è distinto Allora, talento Casino, andiamo sull'incantese Abbiamo questo Se ne so Dice che ce ne sono dieci, però Dice che ce ne sono di più Fammi incazzo, perché fammi incazzo Le cose che voglio che funzionano, mincavolo Quest'ero abituato a quel cacchio di gioco Dovete urlare Questo che dovrebbe essere più chill Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Questa è un'altra cosa qua No, c'è un'altra cosa là sotto Porca miseria Qua Qua L'armatura Ancora altra cosa Ok, questo Reveglio Reveglio No, c'è un'altra cosa No, dobbiamo andare No, dobbiamo andare Qua Lui perché mi fa andare di là Reveglio Reveglio Vediamo se c'è qualcosa da vendergli Vediamo se c'è qualcosa che ti serve Cacchio, non ho liberato questi slot Che mi segna di là Questa è un'altra cosa Questa è un'altra cosa Questa è un'altra cosa Reveglio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Andiamoci da qui! Grazie a tutti! 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 Ok... Oh... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ehi... Ehi... da questa parte... Non siamo... No... Grazie a tutti! Un... 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 Totalus... In questo modo... Metti... Il combattimento... Un... 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 Un...